E' il rosso-nero che si estende, sconfina dal rettangolo di gioco, coinvolge strade e sterrati da Abruzzo. Bella l'iniziativa promossa da otto associazioni cicloamatori lancianesi, riunirsi sotto un unico colore per promuovere il marchio Virtus che quest'anno è andato particolarmente di moda. Tra i promotori Giancarlo Micolucci che insieme ad oltre 80 appassionati di calcio e di ciclismo ha inteso portare avanti l'iniziativa e presentarla oggi al patron Franco Maio presso lo Stadio Biondi, entusiasta per il clima totalizzante e per una divisa che contribuirà ad unire tutto il territorio vicino al rosso-nero. Giancarlo Micolucci, il ciclismo sposa la Virtus Lanciano per diffondere sempre più quello che ormai è un marchio. Questa è un'iniziativa che deve tendere anche ad un'azione di proselitismo sul territorio, perché sono in tanti che magari questo fenomeno, perché la Virtus è un fenomeno sicuramente impositivo, quindi sono in tanti che non conoscono ancora questo fenomeno e come ci hanno cominciato a vedere si interessano. D'altronde noi ciclisti quando usciamo la domenica ma anche durante la settimana noi abbracciamo un territorio molto interessante che è un po' il nostro bacino d'utenza, il nostro comprensorio che parte da Francavilla e anche più su per arrivare a vasto termone e tutto lo entra a terra, per cui veramente si può fare un'azione aggregante, un'azione propositiva sul territorio. Peccato per la pioggia insistente che non ha permesso la sfilata dei cicloamatori per le vie della città, ma l'iniziativa verrà ripresa in tempi migliori e per il derby col Pescara i 50 km verranno percorsi tutti in bici dai cicloamatori in rosso-nero. Michele Lascala, responsabile Marketing Virtus. Un'iniziativa molto carina, considerando il loro giro nel territorio in lungo e in largo, per portare anche in giro i propri colori, i colori che non sono solo quelli del calcio, ma sono i colori oramai di un'intera città, di un'intera fazione, quindi della Frendania intera, portarle in giro per l'Abruzzo, anche perché loro si spostano tantissimo. C'è stato un gruppo che l'anno scorso abbiamo sostenuto per andare in Svizzera, che poi dopo magari vi parleranno loro e vi spiegheranno questa cosa. Quindi è un'iniziativa molto bella, siamo attenti al territorio anche attraverso queste iniziative.